L'avvertenza Purem, azienda tedesca che si occupa di componentistica elettronica e di scarico per auto e che in Italia, oltre a Castellalto, a stabilimenti a Chieri e Borgo Satollo, provincia di Brescia, è nata all'indomani delle voci di una possibile delocalizzazione del sito di Castellalto. Invece nulla di tutto ciò. Quella di ieri è stata una giornata importante. Nella riunione del tavolo regionale, convocato dall'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, è stata infatti formalizzata l'intesa tra sindacati e azienda, peraltro già raggiunta lo scorso 9 maggio. Quaresimale, potremmo dire così, fumata bianca, intesa formalizzata. Sì, un'avvertenza che si definisce in maniera positiva. Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto. C'era il rischio che 70 persone perdevano il posto di lavoro, invece dopo un tendennamento dell'azienda che non aveva risposto a un primo invito della provincia, su mia sollecitazione, anche con il supporto ai sindacati, siamo riusciti ad evitare della localizzazione e soprattutto a salvare 70 posti di lavoro. Questa è una notizia importante, è un momento difficile di transizione digitale-ecologica. Quali sono le prospettive dello stabilimento di Castellalto a questo punto? Sicuramente positive, c'è un piano industriale, l'azienda continua a investire su questo sito. È una vittoria di tutti, però continua a monitorare affinché questo sito possa essere convertito ed essere pronto alla transizione elettrica. Vittoria da un punto di vista ovviamente sindacale per tutto il territorio, è evidente che però bisogna continuare a monitorare, vigilare rispetto a quelli che sono gli impegni da parte della PURE, ma a cominciare dalle stabilizzazioni che oggi sono state ovviamente ribadite. Non so se è possibile saperlo, è nel dettaglio in che cosa si sostanzia questa intesa? Di fatto ci sono attualmente due importanti impegni da parte dell'azienda che hanno a che fare con la ricambistica di mezzi pesanti, quindi è evidente che ci sarà una deadline più lunga rispetto ai veicoli leggeri, quindi sulla transizione dal motore endotermico a quello elettrico, pertanto questa ricambistica sui mezzi pesanti riuscirà ovviamente ad allargare anche quelli che sono i fornitori e i clienti della stessa azienda e quindi ad aumentare i livelli produttivi dentro al sito di Castellalto. Da questo punto di vista riteniamo che sia una prospettiva positiva. Certo è che adesso tutti bisogna che si prendano il proprio pezzo di responsabilità e di impegno per garantire effettivamente quello che oggi sta emergendo.